E' un fondo, quello di solidarietà, istituito a gubbio da Fondazione Carisp, Caritas Comune Cesvol, che parte da 80.000 euro per questo 2013 pensato per pagare le bollette e gli affitti di casa a chi proprio non ce la fa. Ma già nel corso di questo anno potrebbe essere incrementato. Come? Lo hanno spiegato i referenti degli enti coinvolti nel progetto della puntata di ieri sera di Speciale Link, condotta dal direttore di TRG Marinelli Andrioli nel momento in cui hanno fatto appello alle associazioni della città e del territorio. Il primo è stato Antonio Lanuti, membro del Comitato di Controllo e Gestione del Cesvol, chiamando in causa le tante realtà associative capaci di iniziative e risultati sul fronte della solidarietà importanti. Un ultimissimo appello a tutte quelle associazioni, sono tantissime, nel Comune di Gubbio, e nel Comprensorio sono anche la doppia. Un appello, cioè anche chi si occupa di cose che sembrerebbe hanno poco a che fare con l'aiuto e sostegno alla situazione di povertà, ma si occupano di cose lovolissime, di cultura di arte, di quello che volete voi, di sanità, eccetera, di fare un pensierino e di vedere se per caso non possono in qualche maniera, o da sole o insieme, entrare in questa, entrarsi proprio a pieno titolo, perché no? Basta mettere dei fondi. Noi questa è aperta, nel senso che chiunque può entrare a dare una mano, privati, associazioni, chi vuole. A tirare in ballo invece direttamente un settore specifico dell'associazionismo e o gubino è stato il presidente della fondazione Carisp, Carlo Colaiacovo, che ha fatto riferimento al mondo ceraiolo, una fonte inesauribile di vitalità e capacità di coinvolgimento sociale che ha detto va e deve essere sfruttata anche in altri campi e non solo in quello relativo ai Ceri. In una città dove migliaia di persone si mobilitano per fare una festa dei Ceri con tutte le sue articolazioni piuttosto complesse, ieri abbiamo finito con la festa dei Ceri, oggi mi auguro che sappiano utilizzare intelligentemente quelle strutture che hanno, quel potenziale che hanno per anche se dare un contributo. Lo faranno? Non lo so, vediamo. Diamo gli stimoli, facciamo in modo tale che avendo essi stessi ricevuto o dalla fondazione o con altri mezzi che hanno trovato, ha avuto la possibilità di ristrutturare i loro luoghi di ritrovo, che si chiamano taverne o si chiamano altre cose, che si chiamano chiese, hanno fatto grandi cose. Adesso è un momento in cui tutti i loro simpatizzanti di singoli Ceri o delle singole contrarie a cui appartengono, hanno fatto grandi cose. Adesso devono dimostrare di fare dell'altro, cioè non bastano quattro persone a costruire, anche se intelligentemente, con molesti mezzi. Bisogna usare quel vecchio detto che però è sempre valido, l'unione fa la forza. In momenti così difficili tutti devono dare qualche cosa.